È una decima edizione che si intitola Take Care, la scienza per il benessere sostenibile. Decima edizione per Trieste Next dal 24 al 26 settembre. Il festival è organizzato dall'assessorato all'educazione del comune, insieme a università, italiposti, immaginario scientifico e sissa. Numerosi gli ospiti di prestigio di questa edizione. Elena Cattaneo, senatrice a vita, venerdì sera parlerà appunto dell'importanza della scienza per orientare le nostre decisioni. Poi abbiamo Alberto Mantovani, il pioniere dell'immunologia, Federico Faggin, l'inventore dei microchip, e Paolo Mieli che chiuderà la manifestazione con un focus sulla memoria in epoca digitale. Da sempre momento d'incontro e conoscenza tra scienziati, cittadini e istituzioni, Trieste Next rappresenta quest'anno la vera ripartenza, detto il rettore dell'università, Roberto Di Lenarda. L'anno scorso è stata un'edizione che abbiamo fortemente voluta, sapendo che il periodo che ci aspettava era un periodo ancora a rischio. Quest'anno, grazie ai vaccini, siamo sicuramente molto più ottimisti. Si parlerà di medicina, ovviamente, si parlerà di biologia, si parlerà di malattie, ma si parlerà soprattutto di salute, di come mantenerla, e quindi con i comportamenti, ma anche con la cura del territorio, della terra, del mare, l'applicazione della scienza, ma le stesse scienze umane. Tra i numerosi eventi, Ampio Spazio sarà dedicato al gioco di squadra nella lotta ai tumori, con la fondazione AIRC. Per AIRC è molto importante partecipare a questo evento dedicato alla ricerca, perché AIRC finanza con la raccolta tantissimi progetti, e soprattutto in regione abbiamo diversi progetti attivi, abbiamo 25 progetti di ricerca, 26 mila donatori, e abbiamo quasi 3 milioni di euro che finanziamo in diversi progetti.